E' da più di un mese. Da quant'è che lavoravamo insieme? E' da quasi un mesetto, tre settimane. Che dici, provi ad entrare a vedere se te l'hanno reso, come mi dicevi? Sì, aspetta. Ma più che altro ci avevo perso completamente le speranze. Allora, adesso provo. Vediamo un po'. Allora. Sempre si funziona internet. Allora, devo mandare un codice, giusto? Al tuo telefono, sì. Oddio. Aspetta. Ho inserito il codice. Non ci credo. Non ci credo. Yeee! Sono inserita. Non ci credo. Fragre! Ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta! No, ti giuro, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grandii! Aspetta, c'è della luce. Dimmi la verità. Quanto hai bestemmiato? No, trovo. Stavolta troppo. Stavolta troppo. Un mese e mezzo di bambina. E la cosa che più mi fa rosicare è il fatto che ho fatto l'accesso al profilo, non c'è né un contenuto di storia né un contenuto post rimosso. Dimmi una cosa. Ok. Quanto è che si lavorava sopra l'account? Da un mese. Un mesetto, sì. Quasi. Aspetta, Manuel, quasi tre settimane. C'è un mese. Alla prossima. Alla prossima. C'è un mese. Potremmo andare sul vostro islam che hai ora? Ma io sticco. Sì. Che non formi? uno televisivo? La nostra casa. Il nuovo. Che non formi il nuovo islam che Whether you are? Oh, no. Ok, con il nuovo? Miglame il vero usato? Un usato intera del nuovo account? rol brass Dinitabs Ok, ok, stay here for one second, can you go in the chat for one moment? Ok, listen, let's see, I'm trying something... Ok, let's see... Ok... Yeah, I've got a text! From who? From Danny Tubbs! Serious? Say, hey man, do you love me? Is that you? Yes, buddy! I got it! Come on! Yes, brother! Tell me the truth, you were sure that I wasn't able to get it back, correct? Hello? Fuck it out! Grazie a tutti.